Oggi abbiamo finalmente raggiunto un'intesa, un'intesa che è venuta dai partiti, con l'augurio soprattutto che si possa finalmente lavorare in serenità e terminare questo mandato che ha avuto molte insidie. La giunta comunale di Silvi si è ricomposta. A dieci giorni da quando il sindaco Andrò Scordella ha deciso l'azzeramento, le deleghe sono state riassegnate, con poche novità. Il patatrac è avvenuto in seno alla Lega che a Silvi esprime il primo cittadino. I consiglieri Massimo Santone e Andrea Di Cenzo, in contrasto con Scordella, hanno abbandonato il carroccio, formando il gruppo Vivere Silvi e pretendendo un assessorato in quanto forza di maggioranza così da non far cadere il governo cittadino. Per calmare le acque sono dovuti intervenire i dirigenti regionali del partito. Santone ha ottenuto la poltrona di assessore e a farne le spese è stato Gianpaolo Lella, che ha lasciato il posto a Carmela Di Febo in virtù della legislazione sulle quote rosa. A livello regionale si è presa la consapevolezza che i due fuoriusciti che hanno chiesto, il nuovo gruppo Vivere Silvi, che ha chiesto l'assessorato, naturalmente essendo usciti dalla Lega, la Lega con grande senso di responsabilità ha risolto il problema al suo interno. Dunque ha azzerato i suoi assessori e ha rinominato nuovi assessori lasciando un posto al nuovo assessore Massimo Santone, che è il capogruppo di Vivere Silvi. A conti fatti quindi la Lega, in quanto partito in cui è sorto il problema, perde un assessorato. Il motivo del contendere, che ha portato alla formazione di Vivere Silvi, è quello che riguarda il prossimo candidato sindaco quando l'attuale mandato, tra un anno e otto mesi, sarà scaduto. Con l'assessorato alla nuova lista, ora tutte le forze di maggioranza hanno un ruolo in giunta, che perderebbero in caso di fine anticipata del mandato. Ad ogni modo la Lega non ha abbandonato Scordella, in base a un patto sottoscritto dal Carroccio, da Fratelli d'Italia e da Forza Italia, sarà l'attuale primo cittadino, il candidato sindaco del centrodestra, alle prossime elezioni. Non ce la sentivamo di lasciare a metà il lavoro dell'amministrazione comunale, anche per le grandi scadenze. Non ci ricordiamo che siamo ancora sotto pandemia, ma soprattutto con l'arrivo dei fondi PNRR e tanti finanziamenti e progetti che sono stati avviati.